Ritornando alla struttura che ci ospita, le particolarità, quando è nata, perché l'idea di creare questo bus informativo? Il centro mobile informativo appunto viene un fiore all'occhiello della marina militare perché fornisce un contributo a 360 gradi su quelle che sono le attività anche con ausili di carattere didattico e appunto informativo e nasce con una permuta che praticamente è stata fatta tra lo Stato Maggiore della Marina e la Fiat quindi che ha messo a disposizione questo utilissimo strumento.